Thomas Barnouin, uno dei terroristi islamici francesi più ricercati, è stato arrestato in Siria. L'uomo è accusato di aver ucciso sette persone nel 2012 nella Francia sud-occidentale. Originario dell'Occitania, il 36enne è stato fermato dalle unità di protezione del popolo kurdo nella regione di Assake, nel nord-est del paese. Barnouin, convertitosi nel 2000, si era recato in Siria per la prima volta nel 2006 insieme a un altro jihadista francese, Sabri Esid, per raggiungere l'Iraq e combattere contro le forze della coalizione internazionale impegnate nella lotta contro Al-Qaeda. Arrestato e consegnato alle autorità transalpine nel 2007, fu poi condannato nel 2009, ma una volta uscito dal carcere, nel 2014, è tornato in Siria per combattere tra le fila dei ribelli. Grazie.